perché non abbiamo un piano di Stato dell'energia, ma è che dire? Allora io vengo a portarvi un discorso, che qui hanno fatto un colpo di Stato, ci siamo in mezzo, volente o nolente, hanno cercato di dare la colpa a noi, D'Alema due giorni fa, Baffettino, questo Baffetto, quello che ha regalato le televisioni, la sinistra dice che è colpa mia, è colpa nostra, per cui ci abbiamo il danno al governo, perché noi non abbiamo detto sempre di no, guarda che faccia che hanno, hanno una faccia, c'è gente che era convinta, venuta da merito, avete detto di no perché dovevate allearvi, non ci hanno chiesto nessuna alleanza, ci hanno chiesto dei voti, ci hanno chiesto dei parlamentari e dei senatori, per avere la maggioranza e fare un governo di centro-sinistra senza di noi, perché la sinistra sia la destra non ci ha mai cagato neanche di striscio, non ci ha neanche mai riconosciuto nulla, noi siamo i grillini, siamo quelli che smanettano sul computer, che hanno un guru che grida, io grido, vedi io grido, tu mi guardi così, grido, grido una rabbia che senti anche tu probabilmente, è una rabbia nostra, ma è una rabbia, è una rabbia positiva, è una rabbia buona, è una rabbia che ha aggregato 8 milioni di persone in un progetto per cambiare veramente il mondo, è una rabbia che non ci ha portato nelle piazze a picchiarci con la polizia, a prendere manganellate, è una rabbia che ci ha portato davanti ai banchetti, con la carta di identità, a chiedere 2 euro, a autofinanziarci con la neve, il vento, la pioggia, è una rabbia che ci ha portato in Parlamento attraverso delle elezioni, è una rabbia che in tre anni, questo movimento che è stato fondato il 4 di ottobre, di tre anni e mezzo fa, il giorno di San Francesco, e l'abbiamo fatto apposta perché le nostre parole sono solidarietà, senso della comunità, quindi noi siamo i primi francescani d'Italia, il Papa ci ha copiato! Questa radio è buona, ma di contrasto abbiamo l'odio dei media, l'odio, odio, odio veramente, se fate zapping oggi in televisione, avete tutte le immagini mie, della mia famiglia, loro, distorte, io ho delle aziende, una oldie, prego i soldi, hanno un odio totale che sono di desa, fascista, che sono antisemitico, omofobo, hanno detto di tutto, ma perché hanno paura, scusate, fermi, silenzio, scusate, ma perché fate, il bambino quello lì fa in camera, ma io ci avrei 8 anni, è lavoro minorile, ti faccio arrestare, allora, questo, e noi siamo qua, ci danno, è una colpa a noi, perché c'è Berlusconi, quando io c'è un video, per cortesia, siate curiosi, io vi chiedo solo della curiosità, non il voto, guardate un po' di informazione al di fuori della televisione, vi prego, andate su Youtube, andate su Google, che Berlusconi chiama Google, Google, le anime morte, andate lì, cliccatevi, scrivete, Grillo, Grillo, Grillo,